benvenuti in questa guida top 7 iphone ricondizionati di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo apple iphone 11 pro 256 gb l'iphone 11 pro 256 gb grigio siderale ricondizionato è un ottimo acquisto la qualità della fotocamera è eccezionale e la batteria dura a lungo il design è elegante e moderno il prezzo è ragionevole per un prodotto di qualità come questo lo consiglio vivamente punteggio 81 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo apple iphone cursor 128 gb nero ho acquistato un iphone xr ricondizionato e sono rimasto sorpreso dalla qualità è arrivato come nuovo con tutti gli accessori originali e funziona perfettamente la batteria dura a lungo e la fotocamera è eccezionale lo consiglio vivamente punteggio 79 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo apple iphone 11 64 gb nero ho acquistato un apple iphone 11 64 gb nero ricondizionato e sono rimasto soddisfatto il telefono è arrivato in condizioni ottime come se fosse nuovo la batteria dura a lungo e le funzionalità sono eccellenti lo consiglio vivamente a chiunque cerchi un telefono di qualità a un prezzo ragionevole punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare apple iphone 12 mini 64 gb ho acquistato un apple iphone 12 mini 64 gb nero ricondizionato e sono rimasto sorpreso dalla qualità il telefono è arrivato come nuovo con tutti gli accessori originali la batteria dura a lungo e la fotocamera è eccezionale ottimo acquisto punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo apple iphone x 256 gb grigio l'iphone x 256 gb grigio siderale ricondizionato è un ottimo acquisto la qualità della costruzione è eccellente con un display nitido e una fotocamera di alta qualità il processore veloce e la memoria espandibile lo rendono un telefono potente e versatile punteggio 89 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo apple iphone x s 256 gb grigio ho acquistato un iphone x s 256 gb ricondizionato e sono rimasto sorpreso dalla qualità il telefono è arrivato come nuovo con tutti gli accessori originali e perfettamente funzionante la qualità dello schermo è eccezionale e la batteria dura a lungo punteggio 89 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica apple iphone 12 mila e 128 gb azzurro ho acquistato un apple iphone 12 128 gb azzurro ricondizionato e sono rimasto soddisfatto il telefono è arrivato in condizioni eccellenti come se fosse nuovo la qualità della fotocamera è eccezionale e la batteria dura a lungo il servizio clienti è stato anche molto utile punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti